Un tempo con trada di San Simone. In essa incontriamo la chiesa della Madonna della Vittoria, voluta dal Gonzaga Francesco IV, in memoria della vittoria che lo stesso riportò a Fornovo sul Taro contro l'esercito francese comandato dal re Carlo VIII. In questo tempio esisteva un pregevole quadro dipinto dal Mantegna, che fu rubato dai francesi e portato all'oeuvre. Questa chiesa possiede dei fregi in terracotta che ne orlano il fianco sinistro. La facciata è oltremodo semplice, a parte alcune terracotte che orlano alcuni particolari. Nel 1877 il genio militare, trovandola priva di valori, la ridusse a magazzino di armi e divise militari. Quasi affiancata troviamo la chiesa di San Simone, che fu eretta prima del 1000 ad uso della casa di accoglienza di San Simone e Giuda. Per dare asilo, questa, ai poveri delle litti di strada. Fu ricostruita nel 1593, dopo il sacco di Mantua, in cui fu depredata di opere pittoriche di artisti della scuola veneta. L'attuale sistemazione risale a prima del 1800.